pace bene cari fratelli e sorelle ben trovati eccoci alla quarta discussione di gesù siamo a ridosso della sua consegna per la sua passione morte e risurrezione questa volta riguarda il primo di tutti i comandamenti se ci fate caso i toni però sono più sfumati più che una discussione sembra un dialogo da amico ad amico uno degli scribi va da lui gli scribi erano i maestri della legge i sapientoni i dottori che ben conoscevano l'antico testamento avendolo sentito rispondere bene ai sadducei vi ricordate la questione della risurrezione gli fa una domanda qual è il primo di tutti i comandamenti qual è quel comandamento da cui derivano tutti gli altri tenete conto che al tempo di gesù era una discussione che andava in voga perché gli osservanti le persone religiose per essere sicure di fare la volontà di dio dunque di rispettare i suoi comandamenti li avevano interpretati con una selva di 613 precetti cosa vuol dire che per essere sicuro di fare la volontà di dio dovevi osservare 613 regole pensate che gabbia un rapporto con dio fatto di regole 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 ecco allora qual è il primo cioè qual è la cosa più importante gesù rispose il primo è ascolta israele il signore nostro dio è l'unico signore amerai il signore tuo dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente la tua forza questo è il cosiddetto scema israel è un versetto dell'antico testamento che il pio ebreo ripete almeno tre volte al giorno a questo precetto gesù allo stesso livello ne mette un altro amerai il prossimo tuo come te stesso non c'è altro comandamento vedete li unisce un comandamento più grande di questi cerchiamo di capire qui abbiamo il cuore di tutto il primo è ascolta israele da cosa si parte dall'ascolto prima di chiederci di amare dio ci chiede di ascoltare cioè di accogliere il suo amore di lasciarci parlare al cuore di lasciarci amare non siamo noi che per primi abbiamo amato dio ma è lui che ha amato noi anche l'amore che lui ci chiede nei suoi confronti nei confronti del prossimo è amore di risposta al suo amore che ci viene incontro che si è comunicato dallo spirito santo che alimentiamo noi meditando la sua parola quindi noi siamo amati a questo punto dio ci chiede di amare quindi gesù dice amerai che bello questo verbo al futuro amerai l'amore che è aperto al futuro chiamato a crescere più camminiamo con il signore più impariamo l'arte di amare e siamo resi capaci di amare liberati dal nostro egoismo colmati dal suo spirito resi capaci di dare vita e dare la vita amerai dunque il signore tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente con tutta la tua forza che vuol dire con tutto te stesso vedete il nostro rapporto col signore non può essere risolto a delle regoline da mettere in atto qui e lì a un rapporto attacca e stacca a una fredda esecuzione di precetti no il signore si dona tutto e ci chiede tutto cioè ci chiede di vivere rivolti a lui amandolo al di sopra di tutto in ogni cosa che facciamo sono bellissime le parole di chiara lubica a questo proposito come vivere questo comando di gesù intrattenendo senz'altro con dio un rapporto filiale e di amicizia ma soprattutto facendo quello che lui vuole il nostro atteggiamento verso dio come quello di gesù sarà sempre essere rivolti verso il padre in ascolto di lui in obbedienza per compiere la sua opera solo quella e non altro ci è chiesta dunque la più grande radicalità perché a dio non si può dare meno di tutto tutto il cuore tutta l'anima tutta la mente e ciò significa fare bene per intero quella azione che lui ci chiede per fare la sua volontà e uniformarsi ad essa spesso occorrerà bruciare la nostra sacrificando ciò che avevamo in mente o nel cuore può essere un'idea un sentimento un pensiero un desiderio un ricordo una cosa una persona ed eccoci tutti lì a vivere intensamente quanto ci viene domandato nell'attimo presente pensate che bello parlare telefonare ascoltare aiutare studiare pregare lavorare dormire vivere la sua volontà senza divagare fare azioni intere pulite perfette con tutto il cuore l'anima la mente avere come unico movente di ogni nostra azione l'amore così da poter dire in ogni momento della giornata sì mio dio in quest'attimo in quest'azione ti ho amato con tutto il cuore con tutta me stessa solo così potremmo dire che amiamo dio che contraccambiamo il suo essere amore nei nostri confronti ora a questo precetto di amare dio con tutto il cuore gesù ne unisce un altro amare il prossimo come se stessi le due cose non sono separabili la vita del credente e corrispondere all'amore si ama qualcuno e questo qualcuno è dio ed è il mio prossimo amo dio nel mio prossimo amando il mio prossimo amo dio tenete conto che nell'antico testamento c'era già il comandamento di amare il prossimo come se stessi ma il prossimo era l'israelita era la persona della stessa razza della stessa religione ora gesù invece amplia per lui il prossimo è chiunque di chiunque siamo chiamati a farci prossimi specie di chi ha bisogno e gesù ci chiede ama il tuo prossimo come te stesso cosa vuol dire abbi la stessa cura dell'altro la stessa comprensione compassione che avresti per te stesso come tu vorresti essere trattato nei tuoi bisogni nelle tue difficoltà nei tuoi problemi come tu vorresti essere trattato così tratta gli altri vi ricordate la famosa regola d'oro fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te a volte amare il prossimo sarà dirgli una parola bella incoraggiarlo dagli una carezza essere presente dedicare tempo altre volte sarà anche correggere dire dei no esortare insomma come diceva sant'agostino sia che tu debba correggere esortare incoraggiare tutto parta dalla carità e tenda alla carità ecco perché abbiamo bisogno di vivere da discepoli lasciarci insegnare da cristo l'arte di amare ecco perché ascoltare meditare la parola confrontarci fraternamente crescere umanamente spiritualmente per diventare diciamo così campioni d'amore in conclusione gesù dice che la pratica di questi due comandamenti che sono uno solo amare dio il prossimo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici che si offrono sull'altare già nell'antico testamento dio disse ad esempio in isaia che mi importa dei vostri sacrifici di animali e olocausti non li gradisco imparate a fare il bene soccorrete l'oppresso difendete la causa della vedova e in osea voglio la misericordia non il sacrificio cioè per il signore cos'è che vale più di tutto vivere in questo dinamismo d'amore continuo per dio e per gli altri in questa continua uscita da se stessi per amare noi possiamo fare tante cose ma se non c'è amore a che servono san paolo dice se anche predicassi benissimo parlassi le lingue degli angeli se dessi tutti i miei beni se dessi anche il mio corpo alle fiamme ma non avessi la carità non sono nulla noi possiamo offrire delle cose a dio ma senza cuore noi possiamo dare anche l'elemosina ma senza affetto per la persona io posso fare anche dei gesti di servizio a casa ma col collo tirato e facendoli pesare a che giova lo scriba si rende conto che gesù ha risposto bene e gesù gli dice non sei lontano dal regno di dio ma per entrare nel regno di dio c'è da fare un salto in più riconoscere in gesù il signore ed essere dunque suoi discepoli che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti